Il corpore vi sta invadendo. Abbandonatevi al sonno. Bene. Aprite gli occhi. Ascoltatemi attentamente. Qualche giorno fa c'è stata un'esplosione al Grand Hotel. Tornate a quel momento. Dove siete in questo preciso istante? Sono nel salone. È tutto confuso. Quindi che sta succedendo? Degli uomini mi sollevano da terra. Chi sono? Per che vi portano via? Non lo so. Non li conosco. La vettura si ferma. C'è odore di mare. Chi siete? No, no, lasciatemi. Mi tirano fuori dal furgone. E vedo che ha come una figura. È un leone. Un leone? Sì, ma io... Io non... Non vedo più niente. Sono nell'acqua. E tutto si sta muovendo. Siete su un'imparcazione. Dove? Non lo so. Vedo un labirinto. Ora sono in una stanza bianca. C'è una donna. Potete descriverla? È una donna, credo, bionda. E sul viso ha una maschera. Mi dice che andrà tutto bene. Ma io non le credo. Io non posso. Voglio uscire di qui. Tranquilla. Ma sono legata. C'è una fotografia. Una fotografia di cosa? È un matrimonio. Mio marito è sposato con un'altra donna. Che altro vedete? Non resistete. Mi legano di nuovo. Qualcuno mi afferra e mi lega ancora. Lasciami andare. Lasciami. No, basta. Io voglio uscire di qui, per favore. Bleibenci ganz ruhig. Ganz ruhig. Scalmatevi. Smettete di ricordare. Svegliatevi.